Salve ragazzi bentornati sul canale e bentornati dal vostro Lofusia Siamo tornati qui nuovamente sul nuovo video di Brawl Stars Ebbene si, è arrivato il giorno, finalmente ci siamo Eugenio è uscito Ragazzi vi porto oggi questo video perchè effettivamente ieri si Eugenio era uscito Ma per iOS praticamente c'era un bug Ogni volta che Eugenio utilizzava la sua ultimate crashava Essendo che io gioco d'iPad non potevo portarvi ovviamente il gameplay Quindi ho deciso di farlo oggi e di aprire queste 100 casse Anzi più di 100 casse per scoprire se riusciamo a trovare Eugenio Prima di iniziare un bel like di supporto perchè con like possiamo trovare Eugenio Abbiamo un bel po' di possibilità perchè abbiamo più di 100 casse abbiamo detto Però con like di supporto tutto verrà più semplice Un bel commentino per commentarmi cosa ne pensate di questo video E iscriviti se ancora non sei iscritto Per tutti quelli che aspettavano perlomeno oggi è sabato Quindi aspettavano i video di Pokemon Quindi gioco di carte dovevo aprire il mazzo di Blastoise Non vi preoccupate perchè lo aprirò spero di farcela domani Però ovviamente è uscito di Eugenio e devo portare il contenuto principale Che è quello di Brawl Stars Però spero di portarlo domani e non vi preoccupate perchè ho altre sorprese Per quanto riguarda il gioco di carte Pokemon Iniziamo subito Andrò abbastanza veloce perchè come vedete abbiamo questi 100 bauli Anzi qua ne abbiamo 102 momentaneamente vedete sotto E qua vi faccio vedere che ne abbiamo altri 3 Quindi un enorme, una mega cassa che apriremo alla fine E un'altra cassa Brawl Quindi speriamo veramente di riuscirci Senza perderci in troppe chiacchie Come al solito partiamo e vediamo cosa troviamo Iniziamo con quelle piccole Allora Penny Stecca Andiamo veloce Peccato che non c'è un sistema più veloce per aprirli Dai Bonus Ok Solo Penny Frank Dai Ok Ok Nita Bombardino Perfetto Ragazzi se ancora non l'avete fatto come ho detto prima Bel like di supporto Berry del primo Buono le gemme Vai 50 ragazzi 50 di oro Buono Ok Tara E 5 gemme Nice Bello questo bovula normale 12 Stecca e bombardino E dynamite Qua i pocio Jesse Dai Bombardino Jesse Un bigliettozzo Dai ragazzi Eugenio ti aspetto 30 Buono Eugenio dove sei? Eugenio Eugenio Dove sei? Eugenio Allora 50 Quando mi danno 50 è buono Quando è 12 un po' meno Però 5 gemme Meglio ancora Dai Vai con bovula Oh Piper Quindi Brock e Piper Buono Berry Corvo Niente Ragazzi Già siamo a 78 Ok Vogliono che Mi aumento Tara Che è forte d'altronde Dynamic Tara Di nuovo Dai 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 Velocissimi Velocissimi Vogliamo Sto Eugenio Superstelle Regalaci questa gioia Non mi interessa neanche Di Spike E di Leon Ragazzi New meta Il nostro caro Eugenio Dai Pam Tara Niente 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 ragazzi Sempre sto Tara 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 Vai Jesse Ok 50 Anche perché penso Che in questi qua Piccoli Dovrebbe spuntare subito A differenza di quella Della mega cassa E della cassa enorme Vai O perlomeno forse Ci dovrebbe essere uno Non lo so Mi pare che una volta L'ho trovata subito In caso fatemelo sapere Nei commenti Se già Sapete voi Come fu un onzia Dai ragazzi Qualcosa la dobbiamo trovare Non mi interessa Qualcosa la dobbiamo trovare Non mi va di Shoppare Non mi va completamente Di shoppare Anzi Le skin si Come personaggi no Le skin vuoi fare altri video Ma Le personaggi Li puoi trovare Quindi Cara Supercell Fammi trovare Sto Eugenio Per favore Vai Farei anche il primo Due biglietti Preferisco sempre le gemme Ma va bene Vai Frank e Nita Piper Non è neanche niente Siamo a 57 Bombardino Piper Vai Si è ok che stiamo Mendando di soldi Perché comunque I gold servono Posh Bombardino Niente Dai 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 Oh Fatemi trovare qualcosa Carusanza Oh Ma che siamo Oh 300 Mi spiace Mi fidiamo Mi dispiace Vai Posh Bail Brock Boh Finalmente Boh Per aumentarlo Boh e Penny Non li sto trovando Vediamo se almeno Qualcosina Possiamo aumentarcela Ok Anche Pam Va bene Niente Dai 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 Continuiamo Forza 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 Esci qualcosa Niente Niente Facci sognare Facci sognare 5 gemme Vabbè Pino Pino che sono 5 gemme Io lo permetto Che poi con tutte queste 5 gemme Non ci arriviamo mai A 100 Dai Ok finalmente Penny Ma solo 5 Ragazzi 39 Oh 39 Oh finalmente Penny Possiamo aumentarcela Allora No niente 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 Sempre Tara Brock Tara di nuovo Unita Oh finalmente un bo E 5 gemme Dai Ragazzi 34 Casse 34 casse E ancora niente Dai dai Più pesante questa Poi o mai Niente Così Semplicemente Un po Relax Bull Bombardino Niente Bene il primo Ragazzi Oh ma Dove sono finite tutte le cose Oh C'è Stiamo trovando niente Stiamo trovando niente Stiamo trovando niente 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 A me non ci posso credere Non C'è qualcosa La devo trovare per forza E' obbligatorio Con oltre 100 casse Qualcosa la devo trovare Con oltre 100 casse Qualcosa la devo trovare Ce l'ha 24 3 gemme Cioè no Non posso crederci Non posso Assolutissimamente I 50 di oro Mi Mi garbano Ma Però Solo questo Anche le 5 gemme Non mi stanno affatto male Però Non va bene Non va bene Questa cosa Non va bene Dai eh Dai super Fammi trovare Sto Sto genio Fammelo trovare Per favore Fammelo trovare Non essere Non essere Buggata Non è che tu mi devi dire Per forza che devo Tanto non lo scioppo Quindi Hai voglia Cioè me le sono Conservate apposta Per farci il video E tu non mi fai trovare Niente Non è giusto Dai Oh 9 9 casse 9 casse 9 casse Ragazzi Oh Ma che Ma che è Non è giusta Sto cosa Dai Per favore Ma dai Perché se riusciamo Già a trovare qualcosa Qui Possibilmente Negli altri Troviamo qualcos'altro No Ultime 4 casse Ragazzi Ultime 4 Solo Brock E Corvino Ok Già si potremmo Migliorarla Anche Frank Ultima Cassa normale Allora Abbiamo aperto Quasi 100 casse Rimane l'ultima Normale Poi In realtà Ce ne rimangono Due normali 11 Di casse Normi E una Meta Cassa Ragazzi Datemi supporto Vi prego Dai Pam Colt Ultime 10 Di quelle Normi Barra 11 Ok Qua ci dovrebbe essere 3 Quindi se ci è scritto 4 Teoricamente Dovrebbe esserci qualcosa Mi per 2 Mi per 2 Ecco va bene Niente Le gem Ragazzi io non posso crederci Non Mi rifiuto Mi rifiuto Qua addirittura Qua addirittura Solo 2 Solo 2 Però 2 bonus Saranno infatti Gem Solo 2 Quindi 3 potrebbe essere No 3 Semplicemente Mi spalma L'energia In 3 Diversi Brawler Quindi non è detto Che con 3 Riesca a trovare qualcosa Niente ragazzi Oh 8 gem Ma Si è sprecato No no Non ci credo 50 bombardino Buono 50 bombardino Buono Ma L'ultima di questa serie Però non pensavo Che era così Non pensavo Abbiamo finito anche queste Ragazzi Non pensavo che era così Pensavo che almeno Con 100 Qualcosina L'avrei trovata Mi sto Cioè ci sto rinunciando Ci sto rinunciando Ragazzi siamo qui Siamo qui Con questa Mega cassa Speriamo Qualcosina Qualcosina No non c'è niente Non c'è niente Ragazzi Non c'è niente Eh sempre Tara Purtroppo Non c'è niente Ragazzi Non c'è niente Queste altre 25 Siamo qui C'è l'ultima L'ultima Cassa Bro Normale Niente ragazzi Niente ragazzi Niente di niente Oh niente di niente Oh pazzesco Pazzesco Incredibles Incredibles Boh Cioè praticamente A me ci sta dicendo Di shopparlo A me non mi va Di shopparlo Completamente Cioè o lo trovo O lo trovo Non mi interessa Pazienza ragazzi Volevo fare anche un altro video Magari un altro gameplay Con Eugenio insieme Ma Essendo così Mi sa che non esce Però vabbè Grazie per essere rimasti qui E per avermi supportato Purtroppo Oltre 100 casse Non ti fanno trovare nulla Perlomeno Allo Supercell Proprio dice No Non devi trovare nulla Devi shopparlo Devi uscire i soldi Sgancia Paga 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 E invece No Noi non usciamo soldi ragazzi Voglio trovarlo normalmente E appena lo troverò Porterò il gameplay sul canale Quindi ragazzi Grazie per il supporto Come sempre Un bel saluto Loffa a tutti quanti voi E ci vediamo al prossimo video O alla prossima live Loffa Ciao Ciao